Al via la stagione dell'auditorium di Via Marzia Montevarchi, 11 appuntamenti tra teatro e musica in collaborazione con le molte associazioni del territorio cittadino. Una stagione che si replica e mi fa piacere che in questi anni siamo riusciti a dare continuità a uno spazio che prima vedeva iniziative che non avevano un programma, una cartellonistica unica. Cerchiamo sempre di valorizzare iniziative per tutti con delle caratteristiche anche diverse, anche per questa edizione passiamo dal cinema alla musica, al teatro per bambini, al teatro per gli adulti. I protagonisti di queste iniziative sono le associazioni culturali che animano il nostro territorio. Particolarmente attive appunto le associazioni dell'ambito culturale. Le ali di Icaro, di Aesis Teatrango per quanto riguarda le parti che riguardano il teatro e anche teatro intercultura e un progetto su lettura femminile. E poi l'associazione Amici della Ginesta per quanto riguarda il cinema e l'associazione Nepacuvir per quanto riguarda la musica. Nel complesso vengono fuori delle iniziative che interessano a tutti a seconda degli ambiti ed è un modo secondo me importante per valorizzare uno spazio che è veramente nel cuore del centro storico in via Marsa, quindi nel cuore della nostra città. Il primo appuntamento degli 11 totali è previsto per il 13 aprile con la legge del desiderio.